Beh, intanto mi auguro che ci riesca, perché aveva promesso in campagna elettorale che non avrebbe fatto aprire la sala di Via Lanari e invece mi risulta, mi dicono che è stata aperta, non ha tolto ancora le slot machine dal bocciodromo comunale, io mi auguro che almeno nella riduzione degli orari riesca ad avere successo. Non sono d'accordo con lui sul fatto che a Roma non si fa nulla, purtroppo si è fatto molto, ricordo che a introdurre le videolotteri, le cosiddette VLT, è stato il ministro Tremonti vicino alla Lega a suo tempo, si fa anche qualcosa di buono. Io proprio in questi giorni ho caricato sul portale Lex, un portale interattivo tra noi parlamentari e i cittadini, un disegno di legge che a 360 gradi vuole contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo. Dalla pubblicità, abolire la pubblicità, le sponsorizzazioni che soprattutto quelle sportive avvicinano precocemente i giovani, poi dare più poteri ai sindaci, ecco che forse VLT ci ringrazierà se avremo successo. Poi misure di contrasto alla criminalità organizzata, all'infiltrazione mafiosa nel mercato, misure per la prevenzione e la cura delle persone che poi vengono colpite da questa che è veramente una dipendenza patologica come la tossicodipendenza, come l'alcolismo. Abbiamo delle misure di contrasto anche per quanto riguarda il riciclaggio di denaro sporco e a tutela dei minori perché se introduciamo un tesserino elettronico obbligatorio impediamo ai minori di giocare e anche alla malavita di riciclare il denaro di provenienza illecita. Il primo passo dovrebbe essere fermare l'emorragia, non consentire nuove licenze e calmerare il mercato, ridurre il numero di punti gioco, però attenzione questa è una cosa che anche a Confindustria gioco interessa perché hanno veramente tappezzato i nostri paesi, le nostre città con un'offerta impossibile. Le slot machine peraltro oggi sentono fortemente la concorrenza delle VLT e vorrebbero ristrutturare il mercato. Noi dobbiamo fare invece un'azione a 360 gradi per contenere la possibilità di giocare per i giovani, per gli anziani soprattutto, quindi allontanare questi punti dalle zone sensibili, luoghi di aggregazione, anche dalle banche, è clamoroso come a volte si piazzino queste sale vicino alla posta perché è ritirata la pensione e l'anziano va a giocare. C'è tutta una serie di interventi che si può iniziare a fare e su questo il Movimento 5 Stelle è in prima linea. Anche a Mira, dove abbiamo il sindaco, abbiamo raccolto firme e si stanno cercando delle azioni di contrasto mirate.